La maratona di solidarietà dell'associazione Corriamo Persia è conclusa con un'importante donazione al Calcit. Oltre 11.000 euro sono stati infatti devoluti al comitato Aretino. La raccolta fondi era iniziata alcuni mesi fa quando i 10 runners Aretini dell'associazione avevano deciso di partecipare alla maratona di New York a sostegno dell'azione del Calcit. L'associazione è infatti nata con lo scopo di raccogliere fondi con cui finanziare progetti di solidarietà e rilevanza sociale. Crediamo che anche questo contributo possa fare la sua parte e ringraziamo fondamentalmente tutte le persone, amici, conoscenti, ma anche chi non ci conosce, che ha voluto dare un contributo, una donazione per sostenere questo progetto. Il grazie che voi fate a noi è doveroso estendere da tutti quelli che dietro alle nostre spalle hanno potuto darci la possibilità di raggiungere questo grande risultato. I fondi saranno utilizzati in parte per la struttura di hospice del Calcit che verrà inaugurata il prossimo 15 dicembre e sarà dotata di 25 posti letto, oltre che vari macchinari per la cura oncologica ed in parte verranno invece devoluti alle attività portate avanti dallo scudo Calcit Valdichiana.